La continua attività di contrasto allo spaccio di droga da parte della questura di Crotone ha permesso di sequestrare un chilogrammo circa di eroina e trarre in arresto un crotonese di 55 anni per il reatto di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli operatori della squadra mobile nel corso di un mirato servizio svolto nella zona 300 alloggi del capoluogo con l'ausilio di una unità cinofila antidroga della questura di Vipo Valencia hanno proceduto al controllo di un locale adibito ad officina in uso ad un soggetto noto per i suoi precedenti specifici. La meticolosa perquisizione all'interno del locale, grazie anche al fiuto del cane antidroga Digos, ha consentito di rinvenire due panetti abilmente occultati avvolti con nastro adesivo contenenti un chilogrammo circa di sostanza stupefacente del tipo eroina. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato, il soggetto è stato arrestato ed associato presso la locale casa circondariale a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone.